E al Forum di Assago ieri sera la prima tappa milanese del nuovo tour degli U2, un grandissimo show, non solo musica, si replica stasera e poi la prossima settimana. Alessandra Sacchetta Non è solo un concerto quello degli U2 al Forum di Assago, ma un vero e proprio spettacolo nel quale Bono Vox è l'indiscusso showman. Lo stesso cantante della band irlandese ha raccontato, avvolto anche in un italiano incerto e con molta ironia, la storia dei quattro ragazzi che partiti da Dublino sono arrivati ad essere delle rockstar. Dai Milano, dai dai! Il Forum di Assago sembra piccolissimo, riempito com'è dall'immensa macchina scenografica degli U2. Due palchi collegati tra loro da una lunga passerella che diventa essa stessa il terzo palcoscenico. Non sono mai stati fisicamente così vicini al pubblico gli U2, non più piccoli uomini in uno stadio immenso, ma una rock band a contatto con il pubblico italiano, che Bono Vox dichiara di amare molto. Pubblico per il quale sono stati preparati cartoni animati con didascalie nella nostra lingua e grafica di Milano. Grazie a tutti!